Non è ancora ufficiale ma a questo punto è davvero inutile aspettare oltre Vid, la piattaforma che ha segnato per breve tempo il mondo degli anime in Italia, è al capolinea Travolta ormai da tempo dalla competizione, priva di risorse per contrattaccare in maniera perlomeno efficace Ha mollato la presa già da qualche anno e perso a tutti gli effetti una posizione guadagnata anche a scapito di difetti piuttosto evidenti Una fine che da ex collaboratore è tristemente la più naturale possibile Un sito obsoleto e macchinoso, errori di comunicazione e gestione della community, acquisizioni scarsamente valorizzate per puntare quasi sempre al titolone già famoso Una linea editoriale che insomma, al netto di una forte retricenza nel recepire le critiche, non poteva che condurre giù per il burrone Come accenato poc'anzi, per diversi anni sin dalla sua apertura ho avuto l'apprezzata opportunità di collaborare in svariati ruoli Visitare frequentemente la sede di Roma e osservare dai vicini i motivi per cui alla fine non ha funzionato Di conseguenza, per omaggiare e portare il rispetto a un progetto che ha dato comunque tanto agli anime in un periodo in cui si pensava che potessero scomparire del tutto dal sole italico Voglio raccontarne la storia con la massima onestà di cui sono capace, evidenziando i lati positivi alla stessa maniera di quelli negativi e facendo anche ammenda sugli errori personali Prima di cominciare però vi ricordo come sempre di cliccare sul tasto iscriviti perché così mi rendete un pochettino più contento Mi fate pensare che queste 18.000 ore passate a registrare, iscrivere, editare i video servono a qualcosa o a qualcuno più che altro Quindi distruggete quel bottone e anche la campanellina perché sennò poi si sente sola Lasciate un like, un commento e una condivisione perché così si lotta insieme contro l'algoritmo che vuole sempre confinarci negli angolini di internet Ma noi reagiamo! Non ci avrete mai macchine, mai! E infine date uno sguardo in descrizione perché ci sono sempre dei link utili Ma ora ci aspetta una storia veramente enorme 2014, ho iniziato a fare divulgazione sui cartoni da appena un anno e le cose vanno discretamente bene Nonostante gli anime stiano praticamente scomparendo dai canali legali La community è infatti costretta a saziare la fame di nuove serie sui siti pirata o foraggiandosi direttamente dai fan sub Perché anche in mancanza di un canale di distribuzione ufficiale l'interesse per il prodotto resiste senza troppi sforzi In Italia d'altronde abbiamo una lunga storia romantica con l'animazione giapponese colpevole di aver influenzato intere generazioni a partire dai 70 Più di 40 anni d'amore nei confronti di un mondo che ha plasmato l'immaginario comune di molti di noi Non potevano quindi venire scaricati nel vialetto in attesa che lo spazzino li raccogliesse Ed è questo pensiero assieme ovviamente all'opportunità di sfruttare un mercato molto renumerativo Ad aver smosso i fondatori di una piccola start up romana Empirians fondata da Paolo Baronci assieme a Guido Gigante e Francesco Carusi Dopo una piccola esperienza nel campo dei social media decide di lanciare una piattaforma dal nome impronunciabile Vid con 4v e senza i nel mezzo è un'idea intelligentissima In un momento in cui ce n'è assolutamente bisogno Come accennato è un periodo in cui le vetri principali lasciano i cartoni giapponesi fuori da palinsesti E ammazzano gradualmente l'interesse dei giovani per la televisione Tanto che neppure il tentativo di Ray 4 Una fascia notturna dedicata agli appassionati sulla falsa riga dell'NTV Anime Night Riuscirà a ricavare dei risultati soddisfacenti L'esplosione di internet ha aggiunto un nuovo modo di passare il tempo E di usufruire liberamente dei contenuti che passano in tv Spingendo oltretutto a interessarsi persino a quelli che in Italia non ci arrivano proprio Per chi segue gli anime è un'evoluzione naturale Mentre da noi quelli trasmessi in tv calano progressivamente In Giappone la richiesta aumenta sempre di più È proprio il momento in cui ogni stagione arriva a vedere anche 30 o 40 serie Un numero veramente assurdo che al di fuori della madrepatria non viene neanche percepito Per quanto gli appassionati la tengono in vita apprendendosi l'onere di tradurre e diffondere di propria sponte È una situazione clandestina che confina l'animazione giapponese nella più profonda delle nicchie Dainit, unico editore di anime rimasto all'epoca assieme a Yamato Aveva provato a contrastarla all'anno precedente affinandosi al sito PopCoreTV È ancora attivo e pubblica per lo più notizie Ma non ci troverete più nessun cartone animato giapponese I simulcast dei Break Illusion e Silver Spoon, tentativi del tutto sperimentali Sono tra le esperienze peggiori della mia vita e costituiscono assieme ad altri fallimenti Le motivazioni per cui l'editore ha poi deciso di collaborare con un'altra realtà Perché l'arrivo di video è realmente scoinvolgente Diversamente da PopCoreTV è una piattaforma streaming a tutti gli effetti Una realtà che fa pensare idealmente a quel Netflix che non è ancora arrivato sul suo letalico Certo, c'è qualche piccolo problema che rischia di diventare enorme Ma con il voto come unica alternativa I pro superano senza troppi problemi contro D'altronde ha un catalogo pieno delle migliori serie di Dainit Lo staff promette acquisizioni periodiche e soprattutto sfrutta i social per fare i community Oh, sono stati furbi All'epoca eravamo tutti dei fuggitivi che nella vita reale non vedevano accettate le passioni che coltivavano E nella transizione dalle piccole montagne dei forum alle vaste praterie di Facebook, Twitter ed Instagram Video ci ha offerto una casa aperta a tutti La sezione community in verità non ha mai funzionato troppo bene per via di una struttura poco bella da vedere Poco funzionale della condivisione dei contenuti E molto basilare nel tipo di scambio comunicativo concesso Per questo l'utilizzo costante di Facebook e la collaborazione con gli influencer Sono state fondamentali per arrivare ad un pubblico esterno alla piattaforma E qui la storia generale si intreccia all'esperienza personale Perché quando vengono annunciati i primi simulcast sul gruppo collegato a questo canale Scoppia il finimondo Io e il mio collega Paolo decidiamo di attivarci immediatamente nella promozione di un progetto Che ci sembra molto valido e degno di essere supportato Nella speranza forse un po' ingenua di partecipare alla costruzione di un precedente importante Ed effettivamente i primi risultati sono davvero rilevanti Il simulcast di Tokyo Ghoul macinerà infatti milioni e milioni di visualizzazioni nel giro di poche settimane Polverizzando qualsiasi aspettativa e restituendo di conseguenza il segnale che tutti desideravano ricevere L'interesse degli italiani per gli anime è vivo e vegeto Quello che sta male è più che altro l'apparato che dovrebbe supportarli Si può però ripartire Si può ricominciare con una modalità di frizione moderna e una prospettiva diversa Perché se nell'area media 7 eravamo costretti a subire programmazione e scelte editoriali Ora potevamo scegliere O meglio come poi vedremo qualche anno dopo Avevamo l'illusione di poter scegliere Non so voi ma pensare di poter contare davvero qualcosa nelle scelte di un settore Era una sensazione bellissima Appagante Ti faceva veramente sentire parte di un sentimento collettivo Articolato nell'ambizione di cambiare le cose una volta per tutte Ed è per questo che sinceramente volevo farne parte in maniera attiva A inizio 2015 Dopo che il doppiaggio di Tokyo Ghoul ha definitivamente sfondato le porte del pubblico Mestream Vidi inizia a guardarsi intorno E a capire il potenziale di quelli che ancora non vengono definiti influencer Sinceramente non ricordo con precisione chi ha contrattato chi Ma anche se per i motivi sbagliati Tra noi lo staff si apre un canale di comunicazione Dico per i motivi sbagliati perché all'epoca E credo esista ancora oggi C'era un canale con un nome molto simile al nostro Noi eravamo Anime Manga Ita Loro Anime Manga.it E quelli di Vid Nonostante ci fossero 15.000 iscritti di differenza E un'evidente diversità fisica Ci hanno scambiato per loro Un fraintendimento enorme che non posso negarlo Ha aiutato molto la mia carriera in quel periodo E che allo stesso tempo non deve essere piaciuto molto a quei poveracci Visto che registravano le conferenze altrui in cui facevamo da relatori E le ricavicavano su YouTube senza i nostri interventi Un saluto e un bacino cari Vi voglio bene Come dicevo comunque in un modo o nell'altro io e Paolo avviamo i contatti Se scatta una rivoluzione non vogliamo stare a guardarla Così tra l'inverno 2014 e la primavera 2015 Vid spicca il volo stabilizzando il numero di simulcast E recuperando titoline eriti che meritavano di arrivare negli anni passati E noi la spingiamo come se non ci fosse un domani Passiamo sopra l'interfaccia macchinosa Soprassediamo sulla qualità dello streaming Che per quei tempi è comunque buona Evitiamo di far risaltare i difetti Perché abbiamo passato anni a chiederci Se il voto colmato dall'abbandono delle veti televisive Sarebbe mai stato colmato Vid si presenta come il progetto destinato a cambiare per sempre Le sorti dell'animazione giapponesi in Italia E forse anche per ingenità giovanile Ci crediamo fermamente Ne parliamo con un fervore che non passa inosservato E in breve tempo ci troviamo a chiacchierare con alcuni membri dello staff In particolare ce n'è uno di cui non farò il nome per motivi di privacy Che mi sta particolarmente simpatico Ci piace Asiano Abbiamo lo stesso senso di rumorismo E parlarci è proprio bello Se ve lo state chiedendo No Non abbiamo mai avuto rapporti sessuali E anche un bell'uomo È pelato e dal petto villoso Ma all'epoca ero fidanzato con una ragazza di Roma Dettaglio che non tralascio Perché almeno un periodo di volte al mese Mi trovavo a fare la spola tra casa mia e la capitale Città in cui coincidenza delle coincidenze Si trovava la sede principale di Vid L'altra mi hanno sempre detto che fosse a Bologna La città in cui studiavo e vivo tuttora Ma pur avendo conosciuto chi ci lavorava Non ho mai avuto occasione di vederla In ogni caso a fine giugno 2015 Approfondisco la conoscenza del bel manzo Uscendo un po' con lui Solito bonding time Tra fratelli di letture depresse E nostalgia per gli anni 90 L'ho cercato senza risultato E quindi non so perché O per come Ma fatto sta che un weekend Arrivo un giorno prima E mi ritrovo a bussare ad un campanello Mi apre il mio amico E con più di un velo di imbarazzo Mi presento allo sparuto staff di Vid Almeno per quel che ho potuto vedere Non ci sono mai state molte persone 4 o 5 programmatori Uno dei social media manager Guido Franz E poi lui Il capoccia dall'indiscutibile carisma Un paio d'ore dopo essere entrato Paolo Baronci mi ha fatto accomodare Nel suo ufficio Travolgendomi con la sua sicurezza Giovane com'ero Non mi era mai capitato Di interfacciarmi a una persona più grande di me Che parlava dell'animazione Con questo fervore Certo Con qualche girellaro Mi c'ero già scornato Me l'interesse per il contemporaneo Non lo dimostrava nessuno E soprattutto Nessuno si impegnava Per riportarlo in Italia Quell'interesse mi pareva E voglio credere ancora oggi Che sia così Genuino Soprattutto quando mi ha chiesto Quale serie Mi sarebbe piaciuto vedere su Vid Gli ho risposto Guarda La mia serie preferita Pinpon Animation Ma secondo me Non la porterete mai E lui mi ha risposto Perché dici così? Io li ho appena contattati per acquistarlo A un ragazzo di 20 anni Basta questo Gli compri quello che vuole Sta a posto Almeno per un po' Sono quindi stregato Dai suoi modi di fare E nella mia seconda visita Decide di parlarmi Di un evento molto importante Che si terrà di lì a breve Il Vid Anime Awards Deve coronare il successo Dell'anno passato Con un evento Che trascini il pubblico Della piattaforma In un luogo fisico Per celebrare con pane Le premiazioni I migliori cartoni Del 2014 Che ne pensavo? All'epoca come oggi Grande idea Le file del fumetto Snobbano apertamente Qualsiasi forma di valorizzazione Dell'animazione Che non sia legata A forme di promozione Volute dalle aziende Che ne pagano Quindi tolto il food in free festival E qualche altra realtà In Italia Spazi per mettere al centro L'animazione Non ce ne sono Una giornata interamente Dedicata all'animazione giapponese Hai la mia attenzione In questo caso Anche di più Uno dei premi Del video Alime Awards Non a caso Era intitolato Proprio al nostro canale Baron ci ce l'ha proposto Assieme a quella Che inizialmente Credevo fosse una semplice conferenza Tutti alla pari E poi si è rivelata Un'intervista a lui A Dario Mai avuto rancore È stato un fraintendimento Da parte mia Che non mi sono mai Fatto pesare E poi anche se fosse Non è certo Il motivo per cui I video Alime Awards Si sono rivelati Un fallimento Far funzionare Un evento atipico Non è una cosa facile Specialmente Quando il pubblico L'hai coltivato Facendogli guardare I cartoni In modo gratuito È un tipo D'affezione Che sul web Funziona anche bene Nella realtà Si scioglie Come neve dal sole Con meno sicurezza E più voglia Di mettersi in dubbio Probabilmente Si sarebbe potuto Optare Ad esempio Per una location Meno tremenda Di Cinecittà World Non tremenda Come parco Di divertimenti Da quel punto di vista Ho frequentato di meglio Ma non è neanche Il parco Di smesso Di Pompei È tremenda Come sede Di un evento Del genere La Mirabilandia Del cinema È infatti situata Nelle prossimità Di Castel Romano In una località Che per chiunque Venga fuori da Roma È accessibile Solo facendo I salti mortali E un sacrificio A Belzebù Come se non bastasse Per partecipare All'evento Non c'è Una linea separata Bisogna pagare Il prezzo Dell'ingresso Al parco Con un piccolo Cupon Che ti consente Un ginevoso sconto Te lo fa pagare Tipo 18 euro Invece di 20 Io arrivo Con alcuni dipendenti Di vid E anche se All'ingresso Ovviamente Mi sbaglio Riesco a entrare Lo stesso Con la massima onestà Nella piccola sala In cui si terranno Conferenze E proiezioni C'è sempre Una buona affluenza Finito il film Dell'attacco dei giganti Però Da gente se ne va Posteriori Non sembra Poi così difficile Sono dei premi Dati dal pubblico I cui risultati Sono consultabili Anche online Ma perché Io di martedì sera Devo stare là Guardare Un'ora e mezza Di premiazione Mi so sparato Giganti e lacrimoni Ho detto si va a letto Aldarion Ma mi vado a spaccare Il pinieto O forse visto il pubblico Sessione selvaggia League of Legends Fino alle 4 del mattino Non lo so Io Invece Sono dietro questo palco gigante Ad aspettare il mio turno Assieme al mio Paolo Davanti Il vuoto Ci saranno state forse 20 persone Non vi dico neanche Quante non erano collegate In nessun modo All'organizzazione O al parco La premiazione in sé Con tutto il rispetto Delle persone coinvolte È abbastanza deprimente Perché i conduttori E l'organizzazione Cercano a tutti i costi Di buttarla sempre in cacciara Con un umorismo Da boomer Col pubblico magari Le risate di imbarazzo Avrebbero potuto costruire Un'atmosfera Quanto meno sopportabile Senza C'è un silenzio Terrificante A una certa Dopo che un durmino mal girato Mi è stato scambiato Per sigaretta di droga Sia da Baronci Che da una delle sue assistenti Io e Paolo Saliamo sul palco Ritiriamo statuette Blu-ray di Psycho Pass Che ancora non ho mai usato Andiamo davanti al palco Ad assistere al resto E così Sulle note dei Parinpampum La notte cala Sugli Anime Awards Evento destinato A cambiare Per sempre Il panorama Degli anime in Italia Che ha avuto Una singola edizione Per una realtà virtuale Convertire la sua presenza È un processo molto difficile Devi costruire Prima delle piccole situazioni D'incontro Aspettare che germoglino E poi colpire Vida ha avuto troppa fretta E si è bruciata Io però scommetto Che anche molti Di quelli che seguono La piattaforma Dalla sua apertura Non si ricordavano Minimamente Di questo piccolo Inciampo Non ha avuto Proprio nessun tipo Di impatto E come polvere Scacciata sotto il letto Con un colpo di scopa Baronci e i suoi Sono subito andati avanti Il palinsesto Dell'estate È molto forte E con un catalogo In espansione Il 2015 Sembra volgere Verso il crepuscolo Nel migliore dei modi Addirittura L'arrivo di Shingeki no Kyojin Sfonderà tutti i record Della piattaforma E lei permetterà Di macinare utenti A ritmo vertiginoso Il mostro però È sempre in agguato Ottobre del 2015 Il mio amico si licenzia Io frequento Trasidee Sempre di meno Ma Baronci decide Di avviare Una mega iniziativa Con gli influencer Da novembre E ci chiede di partecipare Siamo pronti Mi dice Cambieremo le cose Mi dice E il 22 ottobre Netflix Sparca in Italia All'inizio Il danno È molto relativo Quella se le strisce Infatti È un servizio Piuttosto generalista Che opera Su uscite a blocchi L'esatto opposto Del modello Seguito da vid La piattaforma nostrana Può quindi puntare A mantenere il suo pubblico Anche in virtù Della sua gratuità Ma il debutto Di un competitor Dai mezzi Indiscutibilmente maggiori È un problema È un problema Perché il pubblico italiano Entra a contatto Con un servizio Ad alto budget Che per interfaccia E comodità Devasta senza pietà L'alternativa nostrana Evidenziando i difetti Di vid anche A chi fino a quel momento Non li aveva subiti Più di tanto In particolare Le pubblicità Non avendo altre fonti Di ingresso Più il progetto Si ingrandisce E più le concessionarie Pubblicitari Imbottiscono Gli spazi di spot Che Solo per inciso Non sono schippabili Si bloccano Se cambi scheda E non c'entrano Niente con l'argomento Del sito È il prezzo da pagare Quando si vuole Mantenere tale accessibilità Ma come ci insegna La televisione A farne i conti È sempre il pubblico E si sa Mai svegliare Lo spettatore Di cartone animati Che dorme L'ingresso nel mercato Del colosso americano E la silenziosa Ascesa di Crunchyroll Arrivata in punta di piedi A settembre del 2015 Creano sicuramente Preoccupazione Per il futuro Del feed All'epoca Però Tutto questo Era una novità Sordente Il boom Delle serie tv Era una cosa Molto recente Ancora non aveva Genevato lo scrolling Compulsivo Dei cataloghi E pur macinando Numeri impressionanti Gli anime erano Ancora un affare Da nerd Va bene Attack on Titan Perché è bellissimo One Punch Man Perché per mezzo secondo Ci sta la parodia Di Dragon Ball Ma piuttosto Che avvicinarsi Al mondo Dell'animazione Giapponese Il pubblico Mainstream Preferisce Di scoprire Le telenovelas La piattaforma italiana Quindi ancora Una grossa Opportunità Di mantenere L'affetto Del pubblico E nonostante I due competitor Abbiano delle disponibilità Economiche Indubbiamente maggiori Finché le rispettive Sedi principali Non decidono Di puntare Davvero Sull'Italia Vid può ancora Vincere nelle aste Seppur con uno Spettro in agguato Il 2015 Finisce molto Positivamente Con il successo Di One Punch Man E la partecipazione A Lucca Vid incrementa Sempre di più La sua presenza Nella community Puntando tutto Sulla qualità Del prodotto anime E sull'interazione Col pubblico A noi influencer Verranno infatti Concesse tantissime opportunità Tutte le regolarmente E genevosamente Anche retribuite Perché c'era Una chiara intenzione Di valorizzare Quel lavoro Come tale A posteriori però Una cosa non chiara C'è La direzione Di questa comunicazione Serviva forse A dire che Vid era figa Beh Se molti casualoni Si lamentano Della scomodità Del sito Dubito fortemente Che si vadano a vedere Il mio video Per smentirsi Serviva a coltivare Dei talenti in erba Onestamente Si poteva fare Molto di più Io oltre ad analisi E recensioni Ho fatto ad esempio Un talk show Che magari poteva pure Essere guardabile Ma non aveva Una reale professionalità Era un ragazzino Sapevo usare Sony Vegas A malapena E prendevo in prestito La strumentazione Perché la mia Faceva pena I video piacevano Ma se l'obiettivo Era un livello Superiore A quello di YouTube Andavano bocciati Tutti senza pietà Non voglio Essere ingrato È che crescendo Mi è venuto naturale Chiedermi perché Impiegare tutte queste energie In un progetto Che poi non aveva scopo Certo potreste dirmi Scusa ma perché Non gliele chiesto Legittimo Ve lo concedo Purtroppo però A inizio 2016 Buona parte delle persone Che conoscevo in video Non lavorano più lì E l'ambiente Non mi sembra più lo stesso Nessuna ostilità Semplicemente posso capire Che avere in ufficio Un dizio che non c'entra niente Non possa essere Il guadimento per tutti A giugno inoltre La mia ragazza mi molla E dalla fine dell'estate Smetterò del tutto Di recarmi a Roma I rapporti con Baronci Non si interrompono Anzi Oltre ad offrirmi Aiuto nel privato Sembra entusiasta Ogni volta che lo sento Faccio video Mi propone idee Mi manda Degli indizi Sulle nuove acquisizioni E mentre Inizio a farmi domande Il tempo passa Inesorabile Ora Vi chiedo di perdonarmi Se schiaccio Sull'accelevatore Ma il periodo Che va dal 2017 Al 2020 Per me E' stato come diventare flash Anzitutto La concorrenza si fortifica Netflix Rafforza il suo catalogo Attingendo Dalla stessa fonte di vid Inizia a rubargli licenze E competirà anche Nel campo del simulcast A partire da Violet Evergarden Nel 2018 Crunchyroll Che in quel campo Si è specializzata Si fa forte Del carattere globale Delle sue acquisizioni E mentre l'azienda Cresce Il potere di V the Dynet Nelle trattative Cala La creatura di Impinance In verità riesce a reggere Puntando tutto Sulle hit sicure Si aggrappa Con le unghie E giganti Scopre la galina Dalle uova d'orio In Demoslayer Nel 2019 Cerca le serie giuste Da doppiare Per creare Un catalogo esclusivo Il sito però Resta lo stesso E se nel 2016 Iniziava a diventare Palesemente Obsoleto Nel giro di questi Quattro anni Prende la forma Di un cadavere In potreflazione Il player è così rotto E così poco funzionale Che molti aspettano Che i pirati Scarichino la puntata Da vid E la ricarichino Su un player Meno scassato E se sempre più persone Tornano in massa Alla pirateria Nonostante i mille Pop up Da chiudere Hai un problema Veramente grosso Di cui occuparti Stai facendo Una brutta figura Come d'altronde L'hai già fatta Con quel Frankenstein Di app per smartphone Di cui è meglio Non parlare E qual è la risposta Della piattaforma E quale Come avranno Risposto A questi problemi Sempre più impellenti Che riguardavano Esclusivamente il sito Con casa feed I vid originals E gli abbonamenti Nel primo caso Dopo aver provato Ad importare I creator Da altre piattaforme Vid Recuta vari talenti Per partecipare A un progetto Di convivenza Didattica Spronandosi E aiutandosi Vicendevolmente La scuderia Di artisti Della piattaforma Crea tantissimi Contenuti Che purtroppo La maggior parte Di noi Non ha visto Non sono mai passati Inosservati Però i video Di Flavio Vere e propria Mascotte Di questo periodo Che purtroppo Non so che fine Abbia fatto Ti prego Flavio Se sei vivo Batti un colpo Nel secondo Per far fronte Alle produzioni Milionarie Degli americani La piattaforma Lancia un concorso Per la creazione Di una serie animata Con un L'auto Montepremi Volete sapere A quanto ammontava 50.000 euro In quegli anni Avevo provato A rimanere fiducioso Nelle promesse Di grandezza Che mi erano state fatte Ma in quel momento Ho perso Ogni impriciolo Di speranza Come un capitano Di fregata Che perde la rotta Baron ci stava Sbaddando A destra e sinistra Nella speranza Di ritrovare La direzione giusta E io Che pensavo Ci fosse un piano Mirato Per creare Una realtà Alternativa Che non pretendesse Di fare la guerra Ai colossi Del capitalismo Mi ero stufato Di guardare Per questo Non ho mai fatto caso Agli abbonamenti Ho sempre usato Vid Sopportando le pubblicità In virtù di una resistenza Maturata con anni Di televisione pubblica Per cui È un'opzione Che non ho mai valutato Ovviamente Nel tempo Sero susseguite Migliaia di messaggi Del tipo Pagherei anche 50 euro Pur di non vedere le pubblicità Ma ormai È chiaro Anche a un bambino Che commenti del genere Non equivalgono Ad una vera richiesta Vid ha ceduto Per disperazione Per accontentare Una fetta di pubblico Che speravano Potesse salvarli Il punto però È proprio Che non puoi pensare Di risolvere le cose Tamponando la ferita Ci sono quelli Per cui il problema È il player Quelli che smadonnano A cercare di anime Con il sistema Di ricerca per lettera Quelli che si guardano Una puntata Di una serie super famosa E poi escono dal sito Non puoi accontentare tutti Quindi è meglio Se persegui la strada Che hai deciso Di seguire Senza deviazioni Che ti facciano Perdere tempo E concentrazione Ma Vid purtroppo Puntava troppo in alto Non perché il progetto Non fosse valido Probabilmente Con una pianificazione Maggiore Avrebbe anche potuto Mantenere Il pubblico Che aveva meritatamente Guadagnato È che invece di capire Su che nicchia Poter lavorare Ha preteso Di poter competere Con delle multinazionali Piene di soldi Senza avere le risorse Per farlo Il periodo Della pandemia L'abbiamo capito Praticamente subito Costringe buona parte Della popolazione mondiale A consumare tonnellate Di contenuti audiovisivi Letterari E musicali Favorendo di conseguenza I servizi Che ne permettono La fruizione Anche a fronte Dei problemi Che preoccupano L'industria Degli anime Vid finisce Subito indietro Nella corsa Più pazza Delle piattaforme streaming Lo staff appare Infatti confuso Come un pokemon Colpito da store Di raggio Piuttosto incapace Di capire la situazione E reagire Di conseguenza Forse A beneficio del dubbio Anche con poche risorse Per farlo Nel periodo In cui le smart tv Entrano nelle case Ad esempio La piattaforma Non sa come accorgerle Dimo Slayer Su cui avevano Puntato tutto Finisce anche su Netflix Con conseguente scelta Di salomone Da parte di un pubblico Che non divide il bambino Ma decide di darlo Alla piattaforma americana I palinsesti stagionali Sono sempre più magri Risultato Del puntare Sui titoloni Nel momento In cui i giapponesi Capiscono finalmente Che si possono fare soldi Esportando gli anime E alzando Considerevolmente I prezzi Delle licenze Mentre Netflix Impone il suo impero E cananciola Si la forza Silenziosamente Spandendo anche Da noi il catalogo A vid Resta davvero poco Da offrire E proprio Quando anime e manga Fanno il botto La piattaforma italiana Che doveva cambiare Il paese dello stivale Inizia lentamente A svanire Dal canto mio In piena pandemia Realizzo gli ultimi video E li mando allo staff C'è un breve discuido Risolto molto rapidamente Ma fatto sta Che oltre a non vederli Mai comparire Sul sito Dopo l'aprile Del 2020 Le comunicazioni Cessano in maniera Pressoché completa Il mio rapporto Con vid Si interrompe qui E presi i miei popcorn Mi siedo messamente A osservare La caduta Di un progetto In cui credevo Vedo i ragazzi Di casa vid Gestire Un canale Twitch Devalorizzando Il branding Di una piattaforma Per avere Un po' di pubblicità Grazie all'esplosione Di un'altra Guardo la pagina Facebook Che pubblicizza Videogiochi E porta sempre Di meno contenuti Relativi a se stessa Sospiro Quando prendono Hunter Hunter E tradiscono Tutti gli ideali Che Baronci Mi aveva sbandierato Per anni Non mi riguarda Ma fa comunque male Fa così male Che quando ad agosto 2021 Il CEO mi chiede Che cosa ne pensi Del primo episodio Di uno dei video originals Io prendo la decisione Che prenderebbe Uno stronzo Visualizzo E non rispondo Anche se umanamente Mi dispiace E sempre mi dispiacerà Non ho più fiducia In quel progetto E voglio metterlo Da parte definitivamente Vid smetterà così Di investire Sui stagionali E da inizio 2022 Non ci sarà più Nessun palinsesto Tra posti che pubblicizzano I film in uscita Per Dynit I diritti di alcune serie Che iniziano a scadere E la dipartita Di Valentina Storica firma Della pagina Facebook Harold Bryant E la famiglia Tarzanelli Accompagnano la piattaforma Verso una prematura Di partita E oggi A luglio 2024 Dopo l'annuncio Di una strana manutenzione Il dominio è scaduto E non credo Che avremo Delle spiegazioni Sul perché Tirarle le somme Ve lo dico molto onestamente È davvero difficile Come ho detto Tante volte Nel corso di questo video Ho creduto Nel progetto Vid Perché per buona parte Della mia adolescenza Aveva avvertito La mancanza Di un posto simile E pensavo Che le idee Alla sua base Gli permettessero Di costruirlo Per me E per tanti altri Nella stessa situazione A un certo punto però Credo che l'orgoglio Abbia prevalso Sulla ragione Che l'aver costruito Qualcosa di oggettivamente Importante In breve tempo Abbia fatto pensare Di essere intoccabili È l'unico pezzo privato Della mia esperienza Che racconterò Quindi Paolo mi scuserà In una delle ultime Conversazioni che ho avuto Con lui Il sì Ha cercato di convincermi A tutti i costi Del fatto che potessero Competere con Crunchyroll Con frasi tipo Alla loro quantità Noi contrapporremo La qualità Tipo L'anime di Picotaro Devo dirlo In quel momento Mi è mancato il coraggio Di dirgli Che mi ricordava Hitler Nella caduta Un uomo che fino a due secondi Prima aveva tutto E che ora si trova circondato Su tutti i fronti Solo E in attesa Della sconfitta Purtroppo però Per quanto abbia visto Che già lo fanno in molti Non possiamo Addebitare la dipartita di vida Alla sola competizione A monte ci sono stati Tanti problemi Che hanno causato La progressiva disaffezione Dell'utenza E negarlo Non fa un favore A nessuno E su questa situazione Si è infatti generata Perché la piattaforma Non li ha riconosciuti Apertamente Anzi Ha cercato di nasconderli Sotto al tappeto A sondi iniziative Poco funzionali Gli scheletri però Prima o poi Capitombolano Fuori dall'armadio E lì Non puoi più fare niente Per tamponare Una ferita Che avessi dovuto Chiudere anni prima Come Icaro Vidde volata Vicino al sole E se è bruciata Quello che ne rimane Oggi È una pagina Facebook Fantasma Un paio di loghi E l'amarezza Di un'occasione Mancata E mo Lo so che Ultimamente Dico Che faccio L'outro Breve E poi ci metto Cinque minuti In più Però Oggi Veramente Sto morendo Fa un caldo boia Qui a Bolagno Ci saranno 34 gradi E io devo anche Chiudere la finestra Per non far sentire Le cicale Che comunque Si sentiranno Quindi Siccome questa è stata Per me Già una sofferenza Di partenza In quanto ho dovuto Raccontare Una delusione Una grande delusione Perché oltre ad essere Spettatore E utente di vid Io Ho messo anche Dell'impegno Nel cercare Di farlo andare bene Di creare Dei contenuti Che a posteriori Io L'ho già detto Non credo Siano realmente validi Perché oggi Sono molto cresciuto Dal punto di vista artistico Ma che all'epoca Comunque Cercavo di realizzare Nella migliore maniera Di cui fossi capace Quindi Vederla chiudere In questa maniera Senza comunicazioni Senza che Diciamo Le persone coinvolte Abbiano anche provato In un certo senso A Invertire la situazione Perché io sono sicuro Che nella loro testa Abbiano provato A fare delle cose Che Ancora nella loro testa Evano funzionali Per evitare L'inevitabile Ma purtroppo Per me questo È mentirsi È dirsi Delle bugie Per cercare Di stare meglio E non Lottare davvero Contro la situazione Perché per come L'ho vista Negli ultimi tre anni Purtroppo Da esterno L'impressione È stata questa Essere proprio Incapaci Di capire Dove intervenire Che non era Il Prendere i titoloni Non era L'insistenza Nel vedere Netflix Crunchyroll Come dei nemici Ma lo sviluppare Una nicchia Puntare Su delle cose Che portasse Le persone A dire Ah Ma vi decidete Davvero L'animazione Allora La sta valorizzando Non mi prende Per il culo Da otto anni Con un player Che non funziona Delle pubblicità Messe a cazzo Senza neanche Rispettare I like E così Via Perché veramente Sono qua Facciamo un altro video Mi dispiace molto Che sia finita così Perché comunque Ci sono di mezzo Anche Delle famiglie Normalmente Cioè di mezzo La vita Delle persone E non è Semplicemente La chiusura Di un sito E almeno Spero che Questo video Possa fare In un certo senso Giustizia Alla faccenda Fare luce Indubbiamente Sui difetti E sui punti Negativi Dell'esperienza Vid Ma anche Ce le valla Per quella che è stata Nelle sue Imperfezioni Io vi ringrazio Per essere stati Con me Questa volta Davvero Perché Ci ho messo Tanto Per raccontarla Questa cosa E vi rimando In un prossimo video Ci si vede Cowboy spaziali Grazie a tutti